Quanti ne morirono, quanti ne cadono, a quella rima più collone, i giri, i giri, a quella rima più collone. Quella mattina, in quella Sicilia, una famiglia di corleone, e lavoravano tutti la terra, per campare nei tempi di guerra. Ma una bomba da loro trovata, gli uccise il padre in una serata. Da quel momento ha preso il suo posto, e iniziò per lui il percorso. Ed è successo una mattina, che fu imbrogliato sulla farina, per il ragazzo che lo fregava, la sua fine si avvicinava. Si avvicinava per Totorina, l'inizio della sua rovina. Era un ragazzo di 18 anni, che ha ammazzato un suo compagno. L'hanno rinchiuso in quattro mura, senza problemi e senza paura. La galera era molto dura, ma per Totò era villeggiatura. Giocava, giocava a carte e pure a dama, e il rispetto non gli mancava. Il rispetto era importante, ci furono arresti e latitanti. Quando è uscito da quella cella, come un mafioso lo guardano quelli. Ed era vero perché lui lo era, anche Buscetta in quel giro c'era. Erano in tanti, tutti per mano, e c'era pure il Provenzano. Tante persone lui ha ammazzato, dei pentiti non si è scordato. Anche Buscetta tra questi c'era, uomo d'onore lui non lo era. Anche Buscetta tra questi c'era, uomo d'onore lui non lo era. E il bastardo dell'ex amico li va a cercare in ogni pico. E lo spirro il traditore faceva l'amico e pure l'attore. E lo spirro il traditore faceva l'amico e pure l'attore. Due giudici gli erano conto e arrivò per loro il giorno. Li vede uccidere senza pietà ed era questa la realtà. Lui da tutti era rispettato, c'era di mezzo pure lo stadio. Tutti l'onore gli hanno portato e Zutotò veniva chiamato. Tutti l'onore gli hanno portato e Zutotò veniva chiamato. Questa è la storia di Zutotò che tutti quanti ne parlano. Purtroppo è questa la realtà che non si deve mai imitare. L'uomo di tanto rispetto e onore rimane chiuso al Zambitore. L'uomo di tanto rispetto e onore rimane chiuso al Zambitore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.